A diverse forze fresche pronte ad entrare, corrispondono altrettanti big che si preparano ad uscire. È una fase di calcio-mercato piuttosto calda quella che sta vivendo in queste ore il bisceglie calcio, che in attesa di annunciare il nome del prossimo allenatore, che quasi certamente dovrebbe essere Rodolfo Vanoli, ad un passo dall'accordo totale con gli stellati, continua a lavorare per definire la rosa che affronterà la seconda parte di stagione. La prima ufficialità è arrivata nel corso della giornata di giovedì, quando il club nero azzurro ha risonuto l'arrivo di Samuele Parlati. Il centrocampista, classe 1997, proviene dall'Ascoli e va a rimpolpare un reparto che a breve potrebbe perdere alcuni dei suoi pezzi pregiati, in primis Toskic e Onescu, che hanno tante richieste che in tempi brevi potrebbero rescindere il contratto che li lega ai pugliesi. Da valutare anche le posizioni di Toni Marchic e Carmine De Sena, i cui destini parrebbero essere simili a quelli dei colleghi appena citati. Restano sullo sfondo invece le situazioni relative ad Andrea Risolo e a Diamante Crispino, quest'ultimo, tra i migliori nella parte di campionato appena messa alle spalle, a breve dovrebbe essere affiancato dal 19enne Domenico Coppola, in arrivo dal Torino con la formula del prestito. L'impressione è che per altri corpi in entrata degni di nota si debbano attendere le ultimissime ore di questa sessione, quando tra calciatori in esubero o profili in cerca di riscatto, le occasioni cominceranno a divenire numerose.